Sti cazzi ragazze e ragazze, io sono Claudio Cosa guardi? Parti Ciao a tutti ragazzi Siamo al verde Stavo vedendo come Claudio sapeva recitare bene Però non fa indrattenere il pubblico Quindi sono venuto a soccorrere C'è la merda a terra Come sempre io sono quello della merda Sterco e guino Ah prima che iniziamo Hashtag Non sono Zoda Prima che l'avevo chiedendo Ragazzi siamo a 916 iscritti Ne mancano esattamente 84 Spero che vi ricordate che c'è il grandissimo speciale dei 1000 iscritti Dove correremo in costume Per le vie della città A gennaio Dipende quando arriviamo ai 1000 iscritti Ne mancano pochi Quindi iscrivetevi così ci vedrete in mutante Vivare Comunque Comunque ora do la parola a lui che dirà qualcosa di speciale Speciale? In pratica ora dovremmo cambiare tutto Quando arriveremo ai 1000 iscritti sicuramente cambieremo la foto profilo La grafica metteremo le miniature e forse pure la videocamera Dovrei comprare una reflex se riesco Entro aprile sicuro al 100% inizieremo con la reflex Però prima non lo so perché Uno si mette i soldi da parte E lui deve inganciare sempre un fotografo Quindi sottendo per la foto profilo, le copertine E per montare ovviamente i video e registrare molto meglio Basta che sia una reflex hai in mano tutto Quello che ti serve per fare un video di merda Allora lui si è ripreso ora dalle cadute che ha fatto al cambetto Per la bottiglia challenge e infatti la faccio un po' poverino Cioè racconta come ti sei sentito in quei momenti così tristi In una selva oscura No vabbè comunque No mi era impiantato dalla natura quindi ho detto una selva oscura Cioè ha ragione Niente Abbiamo tante Comunque 400 visualizzazioni in due giorni Un giorno In un giorno è già un record per noi Dunque ragazzi adesso faremo dei mini video anche su Facebook Seguiteci in questa benedetta pagina di Facebook perché è vuota Abbiamo solamente 158 Da 9 159 like E ovviamente se vediamo che Crash Che crash Cioè arriviamo tipo a 300 like Cioè arriviamo tipo a 300 like Iniziamo a mettere video Mini video ovviamente quelli di Facebook Tipo facciamo un esempio Come ridono le persone normali Questa è normale Come ride Claudio Mario 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 Mi facciamo ascoltare anche a voi Iscrivetevi al loro canale Si chiamano i dash Gna 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 E niente Penso che possiamo chiudere questo mini block Io direi di fare un mini ballo Questo video Speriamo che vi piaccia ora lui no scusate speriamo che vi piaccia perché ora lui monterà il video finalmente se dopo anni che mondo sempre io ora dateli tutto soldi e denaro tutto tutto mi fa montare sempre i blog perché è la cosa più difficile non è montato il mio zamm in tutta la tua vita i mini video li mondo io i mini video ok da domani il canale è chiuso come starnutiscono le persone normali faccio come starnutisce Claudio faccio no va io chiudo tutto basta addio ci vediamo al prossimo video iscrivetevi ci arriviamo ci vedete mutante poi vi disiscrivete per lo schifo e restiamo a zero bene comunque ci vediamo al prossimo video bella come si chiude ciao ciao WAAH! 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 WAAH!